Mi trovo al quartiere Tamburi, precisamente in via delle Sciaie, mi hanno chiamato i cittadini per rappresentarmi una situazione davvero schifosa. Peraltro mi dicono che c'è stato anche un incendio, in ogni caso guardate qui lo stato di abbandono, i cassonetti che sono praticamente ricolmi, cassonetti della differenziata, sembra una discarica, un immondenzaio pubblico, non è certo colpa dei cittadini perché i cittadini ovviamente si ritrovano i cassonetti stracolmi e non possono conferire rifiuti e sono costretti a metterli accanto. Mi dicono che appunto da sabato, oggi è lunedì, sono tre giorni che appunto i cassonetti non vengono svuotati. Vedete qui una situazione davvero incredibile, la vedete voi stessi e idem dicasi qui di fronte, anche qui, ma noi vogliamo ancora spostarci, prego il nostro operatore di seguirci perché è davvero un quadro increscioso, non servono le giustificazioni dell'amministrazione, ma la discarica che accoglie i rifiuti è piena, poco ci interessa. Guardate qui altri cassonetti, sì signora stiamo proprio in presa diretta, stiamo facendo vedere lo stato di abbandono, i cassonetti che non vengono quotati, guardate qui e basterebbe andare anche di fronte, lo vedete anche lì. A me non interessano le giustificazioni che dà Chimambiente Ami, non interessano le giustificazioni che mi dà l'amministrazione, conta un fatto che qui c'è una schifezza, il cittadino sta in una situazione di schifo, diciamocelo senza se e senza ma, e la Tari, la tassa sui rifiuti solidi urbani, cresce sempre più. Questa è Taranto, questa è la rinascita che il sindaco Melucci dice di aver seminato e ancora, il bello, il meglio deve ancora venire. Se questo è il meglio, caro Melucci, lasciamo ai cittadini le conclusioni.